Ciao a tutti, rieccoci in questa nuova parte di Pokémon Art Gold in cui faremo il rematch di Chiara, capopalestra, di Fjordoropoli mi pare. Allora, Chiara, come... Chiara si può sfidare solo sabato pomeriggio, se la chiamiamo sul Pokégear. Come sapete tutti usa Pokémon di tipo normale, i quali sono vulnerabili, diciamo, sono svantaggiati, solo contro i Pokémon di tipo Lotta. Per questo io userò Heracross, però comincio con un Girafarig, essendo di tipo Coleot... di tipo, mi pare... non so di che tipo sia Girafarig... Ah, Psico, sì! I tipi Psico sono molto vulnerabili alle mosse Coleottero, quindi proverò ad usare Megacorno. Ok. Avrà anche lei 6 Pokémon, come gli altri. Likiliki, invece, è un Pokémon con valore di difesa e anche difesa speciale, mi pare, molto elevati. È l'evoluzione di Likitange. Uso Breccia, eh, perché non voglio che l'attacco mi cali fin da ora. Però non penso che lo ammazzi direttamente. Ah, invece sì, va bene. Allora vuol dire che il nostro Heracross è molto potente. Ah, Cliffable è l'evoluzione, ovviamente, di Cliffary, mi pare, con la Pietra Lunare. È molto... molto antico, diciamo, questo Pokémon, perché risale alla prima generazione, quindi... Adesso devono uscire pure Pokémon X e Y, che si sarà la sesta generazione. Oddio, Arda, non... non riesco più a stare al passo coi tempi, perché io sono affezionato ai vecchi giochi. Quindi, anche se devo dire che non mi hanno mai deluso profondamente le generazioni uscenti. Nel senso, quelle... le generazioni che sono uscite, via via. Cioè, non mi hanno mai fatto schifo. O meglio, forse all'inizio, però poi... mi ci sono abituato. Però, per me... I migliori generazioni sono quelle tipo fino alla seconda, ma... Poi ognuno ha le sue preferenze. Io sono particolarmente nostalgico. In molte cose. Vabbè, usiamo Breccia. Però prima ho usato Zuffa, che mi ha fatto calare l'attacco. Oh, bene, perfetto. Bibarel, mi pare che sia anche di tipo acqua. Non vorrei sbagliarmi. Delchetti. Non mi ricordo... Non mi ricordo di che generazione sia. Se sia seconda... No, terza, terza. Terza generazione. No. Ok. E abbiamo finito anche con il rematch di Chiara. Ci sentiamo con la prossima parte in cui avremo il rematch nel prossimo capopalestra. Ciao, ciao.